Ecco svelato il busto di Guglielmo Marconi posto di fronte al municipio di San Fior nell'omonima piazza e la statua opera dello scultore Carlo Bagliana vantaggia un primato. La prima piazza d'Italia che porta con sé nel toponimo Marconi anche un busto, è stata una bella sorpresa anche questa. La prima statua in Italia di Marconi ad essere ospitata in una piazza che porta il suo nome, collocata in una posizione non casuale, come se l'inventore della radiotelegrafo fosse rivolto verso il paese accogliendo la cittadinanza. La cerimonia alla quale era presente anche l'assessore Franca Lolli del comune di Sasso Marconi è stata preceduta da un video che ha ripercorso la vita di Marconi realizzato dal consiglio comunale dei ragazzi, presieduto dal piccolo sindaco Filippo Fantone seduto accanto al collega più grande Giuseppe Masette. Abbiamo fatto un video proprio su Guglielmo per anche ricordare cosa ha fatto, abbiamo anche scoperto nuove cose. Il primo cittadino di Sanfior ha invitato tutti a non smettere mai di ricercare, di capire, di coltivare la cultura, ma anche la felicità che a volte, come in questo momento storico ha detto Masette, non sempre è facile trovare. Le conoscenze, l'apertura al dialogo e la condivisione sono qualità che ci aiutano a migliorare, a diventare migliori, a aprire, come dicevamo, dialoghi, collaborazioni, pace e felicità. Ma gli applausi sono stati tutti per il padre dell'opera, lo scultore Carlo Bagliana, al quale due anni fa il comune di Sanfior commissionò il busto che rappresenta un giovane, Guglielmo Marconi. Noi possiamo vedere in quest'opera la sua genialità, la sua genialità quando aveva 21 anni che ha inventato la radio e io mi sento gratificato oggi qui a Sanfior perché il busto è piaciuto a molti. È una ricompensa del lavoro che ho fatto nella modellazione di Guglielmo Marconi.